Bella raga, ovviamente avete appena fatto il 50, quindi state iniziando a interessarvi del gear, degli effetti, della rarità, di come potenziare le stelle, di cosa significa potenziare le stelle, quindi oggi ne parliamo. Allora, immagino che qualcuno di voi abbia iniziato a fare Joint Operation, ok? Quindi qualcuno magari ha trovato già del gear leggendario da Joint Operation, dai Frontier Crash. Ora, cosa c'è di importante da sapere, ok? Prima cosa, per tutto quello che riguarda come funziona il gear di base, ho già fatto un video che vi lascio in descrizione, ok? Quindi link in descrizione per le guida base al gear. Oggi parliamo solamente di un aspetto un po' più avanzato, che sono i bonus e le stelle, d'accordo? Ogni pezzo di gear ha due stat di base. Ora, come vedete, l'elmo ha attacco e HP. Le spalle hanno attacco e HP. Le braccia hanno attacco e HP. E le scarpe hanno attacco e HP. Mentre test, cintura e pantaloni hanno HP e resistenza a tutti gli elementi. Ora, non vedete dei guanti perché i guanti sono l'unico petto che ha crit, ok? E questa crit si tende per crit rate ed è la statistica più importante che abbiamo nel gioco, se volete vederla così. E ce l'hanno solamente i guanti come statistica fissa. Ora, altra informazione importante. Gli unici due pezzi che possono trovare crit nelle statistiche random qua sotto sono guanti e scarpe. Ok? Quindi, tenetevi questa informazione? Molto bene, ok? Perché da qui parte tutto quello che stiamo per dire sull'equipaggiamento. Quindi, ogni pezzo di gear, quando viene trovato, ok? Che sia viola, giallo, quello che è, ha delle random stat. Ora, queste random stat sono diverse in base ai gear che trovate, d'accordo? Quindi, come dicevo prima, scarpe e guanti sono gli unici due che hanno crit che può essere trovato in queste random stat, d'accordo? Ora, tutti gli altri invece hanno tutto il resto delle cose, quindi resistenza, danni elementali e HP, d'accordo? Quindi queste, bene o male, sono le cose che possiamo trovare. Quali stat dovreste cercare su ogni pezzo di gear? Allora, sui guanti, ok? Essendo uno dei due pezzi che puoi trovare critico, vogliamo, critico, attacco, attacco elementale e attacco elementale, ok? Per attacco intendo questo, letteralmente attacco, ok? Vi faccio un esempio. Questi guanti, se io volessi usare una composizione della, tipo la vault che state usando, no? Tipo Nemesis, Samir e King, ok? Cosa gli vorrei trovare sopra questi guanti? Vorrei trovare gli attacco, vault attack, flame attack e crit. E questo è il set perfetto per i nostri guanti, d'accordo? Stessa cosa vale per le scarpe. Mentre per quanto riguarda tutti gli altri pezzi, cosa importantissima sono gli attacchi elementali, quindi ancora di nuovo faccio l'esempio con la comp di Samir e Nemesis, perché è l'unica che abbiamo al momento, ma chiaramente gli elementi che sto dicendo ora vanno cambiati in base al team meta che volete farvi o la quale state puntando, ok? Questo è importantissimo. Quindi, su tutti gli altri pezzi invece vorrei sempre vault attack, flame attack, attack e HP, ok? Quindi questo è più o meno l'ordine di priorità che vorreste su ogni singolo pezzo. Ora, come funzionano gli effetti e potenziamenti? Se noi andiamo su Enhance e andiamo su Advancement, come vedete sui miei guanti ho 1, 2, 3 e 4, ok? Ora, perché qua mi dice che vault attack ineffective? Perché io tra le mie armi non ho nessun'arma vault, d'accordo? Se vando invece su un altro pezzo, vediamo se mi capita. Come vedete ho Frost attack e Flame attack e mi dice su quali armi applico questi bonus d'attacco, d'accordo? Questo è un piccolo extra, in ogni caso. E come funziona? Ora, ogni volta che aumentiamo di stella un pezzo di gear, uno di questi 4 bonus sale. Ora, nel caso, come dicevo prima, guanti e scarpe sono gli unici due pezzi che possono trovare critico, ok? Quindi, dei guanti e scarpe perfetti avranno ogni potenziamento di stella puntati sul critico, oltre agli altri bonus potenziati, d'accordo? E' molto complicato, spero che già solo quello che vi ho appena detto vi faccia rendere conto di quanto è rara la situazione, insomma, in quel senso lì. In ogni caso, quindi, mettiamo che io ho le mie scarpe con, in questo caso, Flame attack, Frost attack, attack e crit. Io qui vorrei trovare, maggior parte delle volte, il più possibile, solamente crit. E quindi questo crit può salire ogni volta che ho potenzione a stella del gear, ok? E' esattamente come gli artefatti di Ganshin Impact per chi ha giocato al gioco. Prima di passare a come potenziare di stelle il nostro gear, ok? Che quello è un altro argomento. Volevo farvi vedere che quando noi upiamo il gear, quindi non gli potenziamo le stelle, ma aumentiamo l'upgrade, quello che facciamo è aumentare le sue stat fisse. Quindi, più avanti, ovviamente, per i nostri, tutti i DPS chiaramente, aumentare i guanti sarà la nostra priorità, e poi tutti i pezzi con l'attacco e poi quelli con HP, a meno che non state giocando tank, ovviamente. E un'altra cosa importantissima è che, come vedete, quando raggiungete dei certi breakthrough, chiamiamoli così, dei certi punti di upgrade sbloccate, ancora più statistiche, ok? Ad esempio, questi guanti, quando faranno più 20, mi danno ancora più crit, ok? Per quanto riguarda, invece, gli upgrade in generale di tutto il gear, come ho già detto nell'altro video, nello scorso video, quando tutto il gear raggiunge un certo upgrade, tutte le nostre stat vengono boostate un bel po', ok? Soprattutto il crit, quindi è molto importante tenere al passo tutti i pezzi di gear e non puntare solamente sui guanti, ad esempio. E... aiuta parecchio, ok? Quindi tenete sempre conto che non volete fare un pezzo più 30 e tutti gli altri più 10, ma volete fare tutti più 10, tutti più 15 e avanti così, ok? Allora, il potenziamento delle stelle. Come sapete, ogni volta che facciamo diversi contenuti di gioco, riceviamo dei pezzi di equipaggiamento, ok? Primo consiglio che vi do, mai fare il recycle, ok? Non fate mai questa cosa, mai, d'accordo? Perché dare dentro i pezzi di gear per aumentare le stelle dà sempre più punti che dare dentro i cristalli che ne ricavate, d'accordo? Quindi, prima regola, non fate mai il recycle. Ora, tornando ai nostri pezzi, se io ad esempio voglio tirare sulle stelle di queste spalle, ok? Allora, un pezzo bianco una copia mi darà 10, un pezzo verde mi darà 50, un pezzo blu mi darà 200, e un pezzo viola mi darà 800, ok? Quindi le copie dello stesso gear valgono parecchi punti, in realtà, se pensate a quanti ne fate, soprattutto se voi avete quelli viola, ok? Ma anche molti blu, di fatti ne parleremo dopo dell'acquisizione, in ogni caso, oltre ai gear avete anche i cristalli, che al momento non c'è un vero e proprio metodo di acquisizione fisso dei cristalli, o almeno non decente, ok? Però, anche questi sono molto utili, quindi, un cristallo grande darà 100, un cristallo medio darà 20, e un cristallo piccolo darà 5. Ora, non ho modo di farvelo vedere, ma aumentare le stelle di un pezzo di equipaggiamento viola è molto più facile che aumentare le stelle di un pezzo di equipaggiamento arancione. Supponiamo che stiamo potenziando dei guanti leggendari, che hanno almeno 3 delle stat che vogliamo, perché trovarle tutte e 4 perfette sarà dura, però mettiamo che hanno crit e doppio attacco elementare. Se faccio le prime 2 stelle, e mi aumenta... magari il quarto bonus che non voglio, ok? Magari mi aumentano HP, quel pezzo lì posso già smettere di upparlo, ok? E aspettare di trovare un nuovo pezzo. Ma anche se lo trovassi perfetto e non mi aumenta crit, sto parlando nel caso specifico dei guanti, perché sono quelli più difficili, d'accordo? E negli altri casi, anche se ho aumentato attacco elementare o attacco, non vi interessa più di tanto, ma comunque, per quanto riguarda i guanti nello specifico, quindi, ho un pezzo leggendario, che ha alcune delle stat che voglio. Lo inizio a uppare nella prima stella, prima delle stelle, d'accordo? E non va come deve andare? Fermati a dupparlo, fermati lì, perché arriva il momento del secondo pezzo. Allora, per quanto riguarda il procurarsi materiali, ovviamente noi abbiamo le joint operation, il frontier clash, eccetera, 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 ok? Però abbiamo anche i nostri coin blu e viola, però. Primo consiglio, i viola non utilizzateli, perché quando uscirà vera, questi coin viola potremo usarli per comprare i cristalli ad un costo nettamente minore di questo gear. Qualcuno di voi potrebbe pensare di comprare il gear per buttarlo dentro i pezzi leggendari? Non lo fate, state perdendo tantissime risorse, abbiate pazienza. Altra cosa, questi coin gialli non usateli per comprare braccia e pantaloni, li volete usare solamente per scarpe e guanti, perché come vi ho detto, scarpe e guanti sono gli unici due che rollano crit tra i bonus effect, quindi questo è importantissimo. Per quanto riguarda i blu, ricordatevi sempre che con i coin blu volete comprare i booster module e gli advancement module, ok? Priorità, e poi in realtà potreste comprare anche i pezzi blu, semplicemente da usare come fodder, e come cibo, non so come volete chiamarli, per aumentare le stelle del nostro gear leggendario. Piccoli tip finali per quanto riguarda l'endgame e anche qualche livello prossimo che sta per arrivare. Allora, la prima cosa che dovete sapere è che i guanti e le scarpe come meta solitamente vogliono 4000 di crit a pezzo, ok? Più 300-500 di attacco, d'accordo? Mentre tutte le altre parti dell'equipaggiamento vogliono attacco più danno elementale che abbia più di 1400 di valore. Quindi questo è più o meno il meta finale alla quale stiamo puntando. Ovviamente mancano dei pezzi di gear qua e qua, neanche questi due avranno crit, avranno anche loro elemental damage e attacco, però in percentuale, quindi cambia totalmente. Ma ne parleremo quando esce Vera e i world boss di Vera. Per quanto riguarda invece, un altro piccolo consiglio che vi do, vi ricordate che vi è sempre stato detto, per svariati motivi, di tenervi questi chip, blu, viola, eccetera, eccetera, ok? E questo è perché da quando fate il 55 potete trovare il gear leggendario anche da quelle ceste a triangolino. Quindi, attenzione, abbiate pazienza a usare le cose, che le cose buone a droppare devono ancora arrivare. E questo era tutto quello che volevo dirvi per quanto riguarda il gear. Io spero di avervi dato qualche informazione utile, spero si sia capito. Magari non è facilissimo accumulare tutte queste informazioni tutte in un colpo, però voglio evitare che facciate troppi errori sul gear perché lo sentite. Più errori fate all'inizio è più lo sentite verso la fine, d'accordo? Quindi occhio con questo gear. Non abbiate fretta di andare a prendere il gear, raga, ok? Non abbiate fretta di spendere i coin per prendere del gear leggendario. Utilizzatelo solamente per guanti e scarpe. Tutti gli altri fateli con più calma, ok? Guanti e scarpe per via di questo fattore crit sono tremendamente importanti, ok? Quindi niente. Spero che il video sia stato utile. Se lo è stato condividilo. Lasciami un piacere, iscriviti al canale. Io vi ricordo che ci vediamo tutte le sere su Twitch da partire dalle 21 o 20 e 30 insomma lì per lì qualcosa del genere. Per il resto ho un canale Discord dove potete entrare e restare aggiornati su quando vado live oppure quando pubblico nuovi video o comunque stare con una buona parte della community di Tower of Fantasy ormai. Quindi niente spero sia utile. Noi ci vediamo alla prossima. Fatti bravi una buona giornata a tutti e bella! e Sì è